Costa di meno da oggi il carburante, che scende di 25 centesimi di euro in meno sia per la benzina che per il gasolio, ma solo per i prossimi tre giorni. Così dopo la pubblicazione di ieri, in gazzetta ufficiale del decreto legge che prevede di contrastare gli effetti della crisi economica e umanitaria della guerra in Ucraina con misure urgenti, questa è la soluzione che non piace ad asso petrolio e ad asso energia, le società che distribuiscono carburante e che preannunciano una mobilitazione per i danni del settore distributivo se il governo non provvederà con indegnizi. Insoddisfatti i consumatori, che subiscono ancora una volta gli effetti della ulteriore crisi e che per i quali una misura di soli 30 giorni non è la soluzione in cui speravano. Intanto l'Associazione dei consumatori dice che sono molte le indagini e le inchieste partite in più città italiane, da Roma a Napoli, a Trieste, Perugia e Cagliari, sul caro carburante.